Questa che vedete all'incrocio tra la Morningside Avenue e la 114esima strada e la chiesa di Notre Dame realizzata per la comunità francese che ha in comune con la vicina cattedrale di St. John the Divine il fatto di essere rimasta incompiuta, infatti anche questa chiesa avrebbe dovuto avere una torre mai realizzata e al suo posto c'è un campanile, una cupola anzi, realizzata dal Guastavino